La scuola di cinema città di Piacenza. Continuano le nostre clip online ricordando quello che abbiamo fatto in passato. Le lezioni sono sospese per il coronavirus. Quello che vedrete in questa clip sono le prime esercitazioni di recitazione. Abbiamo creato delle situazioni insieme agli allievi concrete in cui loro potessero dire una parola. Parola che poi è stata detta. È stato uno scambio bello, uno scambio creativo dove gli stessi allievi hanno creato una situazione concreta data una parola in cui dovevano inserirla. Vi lascio alle clip. Vi rimando a giovedì prossimo per le prossime clip della scuola di cinema città di Piacenza ricordandovi che le lezioni continuano online. Azione! State a casa! Sì! 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 Sì!